Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti all'appuntamento con Sesto Autoveicoli, concessionaria Audi, Volkswagen, service e tantissima promozione in un dicembre scoppiettante, andiamo a scoprirlo subito. Buonasera a tutti, siamo nel reparto Audi nuove di Sesto Autoveicoli, sono qui di fianco alla nuova Audi A3 Sportback per la quale abbiamo studiato un'offerta commerciale per la parte finale dell'anno della quale parleremo a breve. C'è sempre anche il nostro monopattino, continua l'offerta che avevamo ideato il mese scorso e proseguiamo per tutta la parte finale dell'anno, su tutte le vetture in pronta consegna verrà omaggiato questo fantastico monopattino da valore commerciale di 600 euro, ve lo faremo vedere a prodotto di altissimo livello. Non potevamo proporvi un prodotto premium con macchine di questo tipo. Sempre valida per tutto il mese l'offerta Audi Value su tutte le vetture, dunque finanziamenti con un piccolo anticipo, piccole rate con la possibilità poi di decidere alla fine se tenere la vettura, se lasciarla noi o se cambiarla con una nuova. Nello specifico su tutte le nuove Audi A3 in pronta consegna abbiamo deciso di creare un'offerta dedicata solo per questa macchina, con un'offerta super aggressiva dove siamo in grado di proporvi questa macchina con rate sotto le 200 euro, già comprensive di tutte le assicurazioni, furto incendio, atti vandalici, eventi atmosferici e dunque una rata vera insomma, un piccolo anticipo e rate attorno alle 200 euro. Venite a vederci, venite a vedere le macchine, vi ricordo in questo periodo per tenere monitorata l'affluenza nel salone, di compilare il form sul nostro sito e cercare comunque di fissare un appuntamento tramite tutti i nostri canali social. Non mi resta che augurarvi buone feste e vi aspettiamo. Buonasera a tutti, anche questo mese vi parlo dal salone Audi Prima Scelta Plus di Sesto Autoveicoli, tante sono le promozioni anche per dicembre. Vi ricordo che fino a fine mese ci sono ancora con Audi Value Plus le tre rate rimborsate da Audi con una manutenzione in omaggio e quattro anni di garanzia Audi Prima Scelta Plus inclusi. Vi invito a visitare il sito www.sestoautoveicoli.it per vedere questa e tutte le altre nostre promozioni. Potrete tranquillamente compilare il form che vedete in home page per essere ricontattati e avere tutte le informazioni rispetto alle nostre promozioni e vedere ovviamente tutta la disponibilità delle nostre vetture. Ad esempio, solo per dicembre, solo da Audi Prima Scelta Plus e Sesto Autoveicoli, un'altra imperdibile offerta. Per tutte le vetture acquistate durante questo mese, in caso di permuta, il vostro usato vale 1000 euro in più. Ripeto, solo da Sesto Autoveicoli, solo in Audi Prima Scelta Plus. Per farvi un esempio, questa imperdibile promozione è valida anche su questa Audi A3 1.6 turbodiesel del 2016. Pensate che la vettura ha soltanto 80.000 km, è una vettura che viene venduta con quattro anni di garanzia a chilometraggio illimitato. E anche su questa vettura, in caso di permuta, la valutazione della vostra vettura sarà maggiorata di 1000 euro. Anche in questo particolare anno, auguro comunque a tutti voi delle buone feste e lascio la parola a Fabrizio per farvi vedere altre vetture disponibili. Buonasera da Fabrizio, benvenuti. Incominciamo la nostra carrellata di vetture che andrò a presentarvi. Questa bellissima A1 40 TFSI è un 200 cavalli, una macchina da 26.900 euro, che usufruisce anche lei di un'Audi Prima Scelta Plus, cioè 48 mesi garanzia a chilometraggio illimitato. Su tutte le vetture che andrò a presentarvi c'è la possibilità di fare un Audi Value, un finanziamento con le prime tre rate restituite e una maxirata al 35esimo mese. Continuiamo la presentazione con questa A3 e-transportback, una macchina con un motore elettrico che vi garantisce 50 km di autonomia completamente elettrica. E anche su questa vettura potete fare l'Audi Value con tre rate restituite e il primo tagliando in omaggio. Due gioiellini di casa Audi, sono due RS6, un RS6 normale e un RS6 Performance. Passiamo da 560 cavalli a 605 cavalli. Ed ora un pezzo unico, è la nuova A5. Questa è un Coupé 40 TDI 4 S-Tronic S-Line. È un chilometri zero che parte da 66.900 euro, sempre con 48 mesi di garanzia. Ora vi mostro questa chilometri zero. È una splendida A6 Allroad, 349 cavalli, vettura da 83.900 euro. Come vedete l'abbiamo allestita con gli accessori Audi che, se venite a trovarci, vi rimostriamo in maniera assoluta e completa. Ed ora, solo per mostrarvi un esempio di una chilometri zero Avant A4. Ne abbiamo parecchie. Questo è un 163 cavalli che parte da 44.900 euro. È un S-Line. Vi ricordo che tutte le vetture che vi ho presentato sono Audi con un'omologazione Euro 6 di tempo, tutte con 48 mesi di garanzia, tutte dove possiamo usufruire dell'Audi Prima Scelta Plus e dell'Audi Value, cioè un finanziamento a 35 rate con 3 rate rimborsate e un tagliando in omaggio. Vi aspetto in concessionaria per mostrarvi tutte le nostre autovetture. Buonasera a tutti da Matteo. Questa sera siamo qui per parlare di Nuova Golf. Per questo mese di dicembre abbiamo una promozione sul noleggio lungo termine a privati per la durata di 3 anni e un totale di 30.000 chilometri con un canone IVA compresa da 244 euro al mese. Vi ricordo che sul noleggio è inclusa tutta la copertura assicurativa con RC più casco, pneumatici invernali e tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Per il mese di dicembre abbiamo la possibilità di offrirvi anche la nuova Tiguan con la motorizzazione 1.5 benzina in allestimento Life con un vantaggio cliente di oltre 5.000 euro. Questo col progetto valore Volkswagen abbiamo delle rate mensili da 199 euro, comprensive del primo anno di furto incendio, i tre anni di manutenzione, quattro anni di garanzia e il valore futuro garantito da Volkswagen. Solo per questo mese di dicembre e solo su quest'ultima ID che ci è rimasta in disponibilità abbiamo un vantaggio cliente tra contributi statali a fronte della rottamazione e incentivi Volkswagen che arriva quasi a 12.000 euro. Approfittatene e venite a trovarci. Vi ricordo che potete fissare un appuntamento compilando il form sul nostro sito internet www.sestoautoveicoli.it o tramite tutti i contatti telefonici. Colgo l'occasione per farvi i migliori auguri di Buon Natale e un sereno anno nuovo. A presto. Buonasera, sono Edoardo della sezione veicoli commerciali di Sesto Autoveicoli. Oggi vi presentiamo Volkswagen California. Può essere tuo con progetto valore Volkswagen a 528 euro al mese con service plan ed estensione della garanzia incluse. Compila il form sul nostro sito e vieni a scoprire le vantaggiose offerte riservate a te sulla nostra gamma veicoli commerciali. Vi aspettiamo e Buon Natale. Un ciao a tutti da Alessandro. Per questo mese di dicembre abbiamo pensato di regalarvi ben tre opportunità. Supervalutazione dell'usato, sconti fino al 40% e fino a 4 anni di garanzia per la vostra vettura, chilometro zero o aziendale. Partiamo subito da questa bellissima Polo. Polo turbodiesel aziendale 1.6 comfort line, vettura con 23.700 chilometri del 2019 e viene solo 14.900 euro. Ora passiamo a un'altra bellissima Polo. questa è una vettura usata, 1.4 turbo diesel, sempre nell'allestimento comfort line, vettura del 2016 con 98.000 chilometri. pensate a soli 8.900 euro. Ora la piccola ma sportiva di casa Volkswagen, l'App. App 1000 nella versione Evo. Vettura a chilometro zero. Questa gode di 4 anni di garanzia appunto e ve la diamo a un prezzo strepitoso. 14.700 euro. Sempre a chilometri zero abbiamo grandi disponibilità di Polo, Polo 1.2 TSI con cambio automatico. Queste vetture sono a chilometro zero, sono nella versione Comfort Business. Queste le proponiamo a 18.400 euro. Sono disponibili in diversi colori. Eccola, abbiamo anche la regina di casa Volkswagen Golf. Abbiamo disponibilità di pochissimi pezzi per Golf 8, visto la novità. Queste sono motorizzate con un motore 1.500 benzina da 130 cavalli. Le proponiamo a 21.900 euro. Qui abbiamo una bellissima Golf 7, una vettura usata ma veramente veramente bella. È un 1.000 benzina, 115 cavalli con cambio automatico, versione Comfort Business. Vettura del 2017 con 60.000 chilometri. Questa la proponiamo a 15.900 euro. Abbiamo disponibilità di due Passat Berlina nella versione 1.6 turbodiesel con cambio automatico. Queste due, 1.2, identiche, nere, queste le proponiamo a un prezzo strepitoso. Non solo Volkswagen, abbiamo una bellissima Seat Station. Seat Station è una Leon Station con cambio automatico. Nella motorizzazione 1.6 turbodiesel, vettura di luglio 2019, ha percorso 27.000 chilometri. E la proponiamo a 15.900 euro. Qui abbiamo una bellissima Alfa Romeo Giulietta. Nella motorizzazione 2.140 cavalli Distinctive. Vettura con 71.000 chilometri di settembre 2012. Pensate, solo 8.500 euro è la richiesta. Ora invece passiamo a una familiare di casa Ford. Ford C-Max. 1.6 turbodiesel, 115 cavalli. Vettura del 2013. Ha percorso solo 86.000 chilometri. E la proponiamo a 7.700 euro. Tornando in casa a Volkswagen, ci tengo a farvi vedere l'auto del momento. Una bellissima T-Roc. T-Roc 1.6 turbodiesel. Nella versione Advanced, quindi la più bella e la più ricca di contenuti. Vettura aziendale con 10.500 chilometri del 2019 a 27.900 euro. Ed ora ci tengo particolarmente a farvi vedere questa novità. T-Roc Cabrio. Vi vedo già sfrecciare con i capelli al vento. Questa bellissima vettura è una chilometro zero. E nella motorizzazione 1.500 benzina. Questa chilometri zero ve la proponiamo a 31.800 euro. Bene, concludiamo con l'ultima, la Tuareg, la perla di casa Volkswagen. Una Tuareg 3000 turbodiesel, 286 cavalli, nella versione Advanced. Vettura a chilometri zero. Pensate un po', ha un listino di circa 90.000 euro. La proponiamo a 70.900 euro. Io a questo punto non resta che salutarvi, invitarvi ad andare sul nostro sito, compilate il form per un contatto immediato da parte nostra. Vi auguro a tutti buone feste, buon Natale. Ciao. Buonasera a tutti e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la vetrina dell'auto. Sono Simone Reati, responsabile di Sesto Solutions, che è la divisione di Sesto Autoveicoli, che si occupa di mobilità aziendale a 360 gradi. Oggi voglio parlarvi di un servizio che stiamo sempre più implementando, nel quale crediamo molto, che è il noleggio a breve termine di qualunque tipo di automezzo, dalle vetture, ma in particolar modo i veicoli commerciali, eventualmente anche i veicoli commerciali allestiti. Questo servizio dà la possibilità ai professionisti di avere continuità nel loro business senza dover sacrificare lavoro per fermo tecnico del loro mezzo primario oppure danno la possibilità di acquisire un veicolo in noleggio a breve o medio termine, anche quindi noleggi plurimensili, in caso di appalti che richiedano una specifica esigenza per un determinato periodo di tempo e per i quali poi, per esempio, non c'è una nuova necessità di avere un mezzo in parco auto. Quindi flessibilità legata alla continuità e alla possibilità di sfruttare al meglio tutte le opportunità legate al proprio business. Quindi vi invito a visitare il nostro sito e i nostri canali social per tutti gli approfondimenti e contattateci per qualunque tipo di ulteriore informazione. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti dal service Audi di Sesto Autoveicoli. Vi ricordano che continuano le promozioni all service fino a fine mese di dicembre. Continuano sempre promozioni sulle ruote complete e gli pneumatici invernali e vi ricordo che per tutte le manutenzioni eseguite questo mese avrete in omaggio la sanificazione ad ozono. Vi invito a visitare il nostro sito www.sestoautoveicoli.it e compilare il form per l'appuntamento per il service. Vi ringrazio e vi auguro buone feste. Buonasera a tutti. Sono Stefano De Rossi, responsabile del service di Sesto Autoveicoli per i brand Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali e Skoda. Come sempre ti ricordo che le nostre iniziative proseguono anche per tutto il mese di dicembre e sono consultabili all'interno dei nostri canali social e istituzionali. Ti invito in particolar modo ad utilizzare il nostro sito www.sestoautoveicoli.it selezionando la voce service, prenota assistenza, che ti permetterà di prenotare un intervento andando a compilare il relativo form. Siamo comunque a tua disposizione per fornirti tutta la consulenza necessaria. Ti rinnovo i nostri saluti nella speranza di rimetterci tutti in moto. A presto. Siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Non vi resta che visitare il sito per scoprire tutte le altre promozioni che non abbiamo avuto il tempo di presentarvi e anche compilare il form per avere un appuntamento. Un augurio di buone feste a tutti e vi aspettiamo qui in Sesto Autoveicoli. Ciao!